Buongiorno a tutti, sono Valeria Straneo, Maratoneta Alessandrina. Stiamo vivendo veramente un periodo molto difficile e lo stanno vivendo soprattutto i nostri ospedali di tutta Italia. Anche nella nostra provincia ovviamente c'è bisogno di tutto. Per questo vi chiedo di fare anche solo una piccola donazione collegandovi al sito www.fondazionesolidal.it Donare è facilissimo. Se andate su questo indirizzo vi comparirà una schermata dove potete fare la vostra donazione veramente in modo semplice e sicuro. Potete farla tramite Paypal o tramite bonifico bancario. Basta anche una piccola somma per dare un grandissimo aiuto. Io spero tanto di rivedervi presto tutti e di darvi un grandissimo abbraccio.